Dopo due anni di concordato, un 2018 in pareggio, la Fiera di Roma si rilancia e punta un 2019 in attivo. L'ingegnere Pietro Piccinetti, amministratore unico e direttore generale della Fiera Roma, traccia un quadro sugli obiettivi del sistema fioristico della capitale. Il nuovo anno che viene fioristicamente parlando è veramente avvincente, anche perché stiamo dando il via e partiranno delle nostre nuove manifestazioni più importanti. In due anni e mezzo abbiamo sviluppato e creato circa dieci nuove manifestazioni, ovviamente puntando su Roma e sull'Italia, partendo dal nostro territorio, perché le fiere fanno parte integrante del territorio. Dalla cooperazione internazionale allo spazio sarà l'anno della svolta. La Cina è la nuova frontiera dell'economia mondiale. Il mondo fioristico deve avere un ruolo strategico nel rafforzamento delle relazioni tra paesi. A maggio dunque si terrà Obor Exhibition 2019, un contratto firmato tra l'amministratore unico di Fiera Roma e il direttore generale della società cinese Uji Feng Hua. Porteremo circa 200-300 aziende cinesi, stiamo organizzando dei B2B mirati con aziende italiane, ed è l'edizione zero. Speriamo che poi negli anni a venire, le abbiamo presentate ai nostri parti cinesi, questa Obor si allarghi anche a tutti i paesi che fanno parte della Via della Seta. Altro appuntamento importante è la prima fiera europea dedicata all'economia dello spazio, New Space Economy European Expo Forum, che si terrà a dicembre. Un accordo siglato a Brema tra Fiera Roma, Fondazione Amaldi, in partnership con la statunitense Space Foundation. La New Space Economy è importante perché noi siamo partiti dalla studio dell'analisi del territorio e il Lazio è una delle eccellenze nell'industria aerospaziale. Partendo da lì abbiamo pensato, siccome manifestazioni aeronatiche, manifestazioni dello spazio, ce n'erano diverse in giro per il mondo, perché oggi quando uno fa un'analisi di una manifestazione nuova non può guardare solo quello che succede in Italia, ma queste sono manifestazioni, in Roma poi non può essere non internazionale, abbiamo visto che c'era uno spazio importante sulla New Space Economy. Che cos'è la New Space Economy? La New Space Economy è lo spazio, noi uomini avremo bisogno sempre di più dello spazio, diventiamo sempre di più, perciò la conquista spaziale è fondamentale e perciò da lì inizia tutto quello che è la nuova economia, dall'agrospazio al turismo spaziale alle nuove tecnologie. A maggio invece Fiera Roma alza il sipario sull'expo della cooperazione internazionale. Pochi sanno che Roma è la terza città al mondo che ospita agenzie dell'ONU, noi siamo la terza città dove New York e Vienna viene Roma e siamo comunque la nazione al mondo che investe di più nella cooperazione. Mi piace dire una cooperazione profit nel senso creare lavoro dove veramente c'è necessità di lavoro. Siamo andati al Parlamento Europeo, l'abbiamo presentato a Stefano Manservisi, al direttore dell'agenzia alla cooperazione della Commissione Europea, è piaciuto molto il progetto e quest'anno dietro richiesta appunto della Commissione Europea sarà Focus Africa, però vogliamo spazzare poi anche in altri paesi. E la cosa importante è che saranno tre attori fondamentali, perciò la domanda all'offerta ma anche l'attore il braccio economico, tutte quelle istituzioni, banche, società che operano finanziando i progetti per costruire lavoro dove c'è bisogno. Insomma, un 2019 ricco. Due anni fa Fiera di Roma era inconcordato, il concordato è stato omologato, quest'anno abbiamo quasi raggiunto il pareggio, nel 2018, nel 2019 passeremo inutile, ma la cosa fondamentale è che abbiamo fatto tutto da noi, cioè abbiamo sviluppato tutte queste idee a supporto ovviamente per il territorio, per l'economia regionale e nazionale, siamo molto orgogliosi, la Fiera è di tutti e serve un'aiuto di tutti. Io ho sempre detto che quando sono arrivato ho detto signori noi dobbiamo farcela ma crea un'asta che uniti si vince. Grazie.